Ciao a tutti! Un bacione enorme dalla vostra amica! Video sulle trucce rossi? Allora, video gentilmente ci ha contattato a Costar e vi facciamo vedere quello che c'è da tutto dentro in questa scatolotta Aspettate, sono tre cose Vi lascio come sempre il link sotto nell'info box del sito e poi degli eventuali codici sconto e tutto che c'è appunto il codice sconto che dura fino al 15 agosto perciò se vi interessa tutto quello che vi facciamo vedere adesso, affrettatevi Allora, prima facciamo vedere questa che è una lampadina, come vedete e sono quelle che cambiano il colore Adesso vi faccio vedere la confezione così, dopo vi facciamo vedere tutto che vi facciamo funzionare così, con l'attacco questo così questo piccolino è grosso, credo Aspettate, non voglio rompere niente perché se mi cade terra e dopo la mettiamo in funzione poi c'è questo che è per collegare dentro nella presa della corrente Aspettate, taglio tutto perché se no qua non riesco a aprirla con mani nude tiriamo fuori appunto questo spinotto qua che ha anche l'interruttore per accendere e spegnere e ci inserite la padella adesso andiamo a vedere ci spostiamo di là riprendiamo la views vi faccio vedere tutto perché c'è anche questa meraviglia scusate che andiamo ad aprire adesso lo posizioniamo appunto nella mia postazione che ha appunto una bajur una lampada chiamatela come avete voglia voi ed è fatta così Aspettate vi faccio vedere comunque il disegno qua sulla scatola poi adesso andiamo a montarla bene ve la facciamo vedere sempre utili sempre utili sul comodino sulla scrivania dove avete voglia voi sono sempre sempre utili adesso andiamo a montare tutto vi facciamo vedere eccoci qua ho spostato la mia ciabatta qua perché è l'edietta nella postazione vedete che abbiamo montato la lampadina dentro appunto qua al suo apposito poi abbiamo installato l'app appunto perché scende una lampadina smart dovete utilizzarla con la loro app ed è questa e niente lì puoi cambiare i colori e qui vedete che luci colorate vedete che adesso la fa rossa vedete se vi spostate qua sul più che bello questo molto carino vi spostate sempre più e questa questa è quella che mi piace di più rosa perché io amo rosa dopo voi potete controllarla accenderla spegnerla anche sempre spenta con il bottoncino e si accende e si accende io lo lascio adesso questo mamma che bello questo colore qua carino davvero si imposta un po' il colore che si ha voglia dai carino hai fatto il colore che avete voglia lo abbiamo collegato dentro qua adesso ma adesso la colleghiamo nella lampada così vediamo come sta insomma dentro adesso tolgo da qui e poi appunto Igo Star ci ha mandato anche questa specie di lampada la bajur allora io ho aspettato ma scusa amore prima avevo fatto vedere che era smontata adesso mi scivola la mano perché c'è un caldo comunque queste tre gambette qua che prendo la maglia perché mi scivola me la mano non è che vedete le ho montate erano questi tre gambettine che ve le danno smontate logicamente perché arriva smontata questa era tutta incelofanata sembra una specie di carta di riso non so come spiegarlo questo materiale molto carino è fine ecco è molto fine io penso che questa me la rubra Sharon dico io magari da mettere sulla scrivania no ma sai cos'è la cosa bella regola è fine poi guardate sta su benissimo in piedi allora puoi fai vedere che questa se tu la smonti si questa quella la puoi applicare direttamente dentro nella lampada e la puoi infilare direttamente nella spina nella spina si con una prolunga forse perché questo potete vedete questo si gira lo spinotto si gira di qui di qui dipende da come voi la posizionate ecco si penso che ci voglia una prolunga ci vuole la prolunga per forza comunque perché si perché qua comunque c'è il sopra ma no vabbè adesso noi andiamo a mettere la lampadina che a parte che è comoda anche utilizzata direttamente così per dire avete anche la presa così a muro da qualche parte esatto o anche magari non lo so verso terra se dovete magari alzarvi di notte o non lo so non parte anche al comodino dove avete la presa comunque anche qua c'è il clic clac accendi e spegni è comoda cioè non è che la lampadina una volta che la mettete come i lampadari rimane acceso dovete andare cioè questo mettiamo dentro qua in questa bella bajur perché possiamo chiamarla bajur ecco e anche questa è dotata dei clic clac così vedete adesso è rimasta sul colore che abbiamo fatto prima però anche qua giustamente voglio mettere il rosa che bello così vabbè puoi fare luce bianca che bella forte 5 watt questa qua comunque ma guarda che bello il lilla il fucsia si poi ci sono anche c'è invece va su modalità puoi fare gli effetti vedi i vari effetti cambia colore da solo mi fa appunto i vari colori estate autore 5 watt non consuma niente ci saranno più caldi e qua ci saranno quelli un po' più freddi in inverno vedete tutto sul ghiaccio alba tramonto saranno tutti sul rossiccio arancio dai carino però c'è tante belle cosine e voi potete divertirvi c'è anche il timer va bene se il timer vuol dire che puoi impostarla farla spegnere alla certa che avete voglia bello dai carino queste cose qua sono sempre utili perché non sembra ma tante volte magari dici ah mi mancherebbe una lampada lì una bajulla le vai a comprare cioè nel senso perché poi le vai le cerchi le compri e comunque niente dai carino poi vabbè accendi e spegni con qua oppure dall'app come avete voglia voi ma mi piace ecco io scusa ma io vado sempre su quello è carino si è la comodità che esce vi faccio vedere bene dentro come cambia il colore che puoi metterla dove vuoi e la controlli da telefono infatti da telefono cioè volendo puoi mettertela nella plafoniera è anche vero nella plafoniera e te la accendi te la spegni dallo smartphone è carino poi sono cose utili insomma chi non ha in casa queste cose qua poi appunto se volete giocherellare e divertirvi con delle luci colorate è anche una cosa divertente anche per la camera dei ragazzi dei bambini insomma elegante è anche elegante questa sì molto elegante però sono cose anche carine per i giovani o anche più sugli otari adesso per carità perché comunque la lampada va bene anche su un comodino di una camera matrimoniale una di qua una di là pensa che bello muore fare una di qua una di là tu la luce azzurra io la luce rosa dai carino niente io ringrazio iGhostar ringrazio voi che ci seguite vi ricordo sotto in info box guardate sempre tutto codici sconti vari e tutto e c'è sempre il link appunto che vi porta sul sito e andate a vedere queste cosine qua se siete interessati e avete anche appunto lo sconto e tutto niente vi mando un bacino e un appuntamento a posto video ciao ciao